...vede in me, anche dopo la morte, vibra la pace. E ora vi racconto una storia. C'era un uomo che aveva due figli. Un giorno disse al primo, va a lavorare nella vigna. Il ragazzo rispose di no. Poi ci ripensò e andò. L'uomo chiamò il secondo figlio e gli disse la stessa cosa. Il ragazzo rispose, certamente, ma non ci andò. Ora ditemi, chi dei due figli ha fatto la volontà del padre? ...e che di due figli ha fatto il padre? Ma che di due figli ha fatto la volontà del padre? Ma che di due figli ha fatto il padre? Ma che di due figli ha fatto il padre? Voi, scrivi e farisei, che chiudete agli uomini il regno dei cieli, siete tutti ipocriti. Voi non volete entrarci, ma non lasciate neppure entrare coloro che vorrebbero. Guide ciechi e scutate un moscerino e ingoiate un cammino. Voi osservate le norme più piccole della legge e trasgredite invece quelle che sono il cuore della legge. La giustizia, la misericordia, il perdono. Voi siete come sepolcri imbiancati, immacolati e puliti di fuori, e dentro pieni di ossa putrefatti e di corruzione. Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna? Vipers, vipers, come potete escappare la dalle nazione? La vostra è la casa della desolazione, la casa delle lucertole e del ragno. Come sono i lizzati e le spiaglie! Great Actors A Zeffirelli, mitico 77 Bel documentario Surrai Storia Gesù che legge il giornale Read the newspaper La nostra macchina da presa smette qui di seguire quella di Zeffirelli In francese? Forza, parla, 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 parla Eh già, i tunisini parano i francesi Mifico Diario di un figlio E' perla, parla, 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 parla. E' la parla di Amazon